Buongiorno tifosi bianconeri, volete restare aggiornati su tutte le novità della Juventus? Quindi iscriviti al canale, e attiva la campanella di notifica, quindi non ti perdi niente della Juve. Secondo recenti indiscrezioni, il giovane terzino sinistro della Juve, Gianluca Frabotta, che milita in Serie B nel Frosinone, potrebbe essere l'ultimo acquisto del club Bologna. Attualmente all'undicesimo posto in Serie A, il Bologna sta cercando di ingaggiare Frabotta per questa stagione. In prestito al Frosinone Frabotta vanta ottime partite in Serie B. Gianluca Frabotta ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juventus ed è stato promosso in prima squadra nel 2020. Ha poca esperienza nelle partite ufficiali, ma è considerato un giocatore promettente. 2 milioni di euro è il prezzo che la Juve valuta Frabotta. Non è ancora stato deciso se il terzino si trasferirà al Bologna. Ma questo può accadere in qualsiasi momento. Assicurati di commentare e dirci la tua opinione su questo possibile trasferimento di Gianluca Frabotta al Bologna. Fino al prossimo video personale.